Convegno PNRR Women, sono molto contento di avere con noi il sottosegretario, la sottosegretaria, visto che parliamo proprio della certificazione della parità di genere come driver dello sviluppo, la dottoressa Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quello che in acronimo conosciamo ormai come MEF. Lei ha fatto un intervento molto interessante, sia nello specifico sulla questione della certificazione, sia sui provvedimenti che nella manovra, ovviamente nell'ambito delle possibilità, dei vincoli che ci sono, a favore proprio più complessivo della parità di genere e comunque a favore di un maggior tasso di occupazione, femminile che in Italia, insomma siamo, non dico il fanalino di coda, ma quasi, insomma. Da dove cominciamo, sottosegretaria? Da dove cominciamo? Cominciamo col dire che sì, noi siamo un po' a fanalino di coda nell'occupazione, anzi nella disoccupazione femminile e soprattutto in una questione si chiama segregazione, lo dicevo prima, segregazione orizzontale e verticale. Segregazione orizzontale, cioè il fatto che le donne fanno determinati lavori, sono tipicamente femminili, e la segregazione verticale, le donne fanno lavori e fanno fatica all'interno dell'organizzazione a crescere e a sfondare quel tetto di cristallo di cui tante volte abbiamo parlato. Da dove cominciare? Intanto dalla manovra, la manovra nella sua rapidità di espletamento, comunque ha delle misure indicative e anche molto importanti. Una misura che viene poco spesso citata è proprio quella dell'aumento di un mese della maternità all'80% per le donne, ovviamente, ma c'è un emendamento in corso su cui si lavora per la genitorialità in generale. Però la questione è non solo questa, l'aumento dell'assegno unico, per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Io volevo ricordare che è proprio nel riconoscimento della differenza tra uomo e donna che è possibile fare un passo avanti e fare in modo che le donne possano avere la possibilità di avere una vita piena dal punto di vista della propria carriera professionale, ma anche della propria famiglia. Lei faceva riferimento a da dove cominciamo. Io sono un docente e come tale ritengo che sia fondamentale partire da un'educazione, da un aspetto culturale... E lì, mi scusi perché lei ne ha parlato, cade la questione delle materie STEM, cioè cade nel senso che proprio c'entra come il cacio sui maccheroni, perché è questo problema per cui le nostre ragazze, anche quelle che sono particolarmente portate alle superiori per la matematica, poi però la percentuale che prende materie scientifiche o matematiche all'università continua ad essere bassa. Lei l'ha individuato come un tema centrale questo? Sì, questo è un tema centrale. È un tema centrale perché dare opportunità alle donne significa in questo momento dare opportunità alle imprese, dare opportunità di crescita a tutta la nazione. E quindi questo io sono veramente... ho fatto i complimenti per questo importante convegno che prende in considerazione il sostegno alle imprese per una parità di genere. Sì, è fondamentale lavorare... io sono anche insegnante, ho lavorato molto spesso, sono docente di informatica e come tale ho visto classi tipicamente maschili e anche all'università i corsi sono tipicamente maschili. No, noi dobbiamo fare... perché dobbiamo spiegare intanto che le materie scientifiche hanno una grande attrattività e sono materie creative e non grigie come sempre vengono dipinte e che però forniscono anche la possibilità per le donne di aumentare il proprio livello professionale e quindi la propria retribuzione e dall'altra parte anche di poter molto spesso lavorare da remoto, avere una flessibilità nel lavoro che spesso è più conciliabile con i tempi vita lavoro. Ecco, su questo bisogna lavorare, un orientamento e un approfondimento di questi temi. Davvero grazie al sottosegretario, barra sottosegretaria, qui non si sa più tante volte. Sottosegretario di Stato. Sottosegretario di Stato, perfetto. Come preferisce lei? Non c'è problema. La dottoressa Lucia Albani. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.